Saluto, do il benvenuto a tutti e a tutti a questo appuntamento di Zoom in per parlare del libro curato da Simone Arcagni per Palermo University Press, Immersi nel Futuro. Roberto ci dai tu il là quando siamo pronti per partire. Io allora lascio la parola a Fabrizia per l'introduzione del nostro ospite di oggi, Simone Arcagni, e mi ammutolisco. Grazie. Grazie a tutti e due. Grazie Andrea. Allora do anch'io il benvenuto a tutti a questo incontro con il professore Simone Arcagni che oggi ci parlerà appunto di questo volume pubblicato da Palermo University Press lo scorso anno, Immersi nel Futuro, la realtà virtuale, nuova frontiera del cinema e della tv. Allora ehm presento in modo sintetico eh il professore eh che è un professore Arcagni insegna all'Università di Palermo, all'OIUN di Milano e alla scuola Olden di Torino. eh è studioso consulente, curatore, divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie, collabora con diverse eh riviste giornali tra cui Nova il Sole ventiquattro ore, Repubblica, Film TV, Domani Segno Cinema. È inoltre autore di Digital World, trasmissione di Rai Scuola e tiene un blog sul sito novecento. Ha fondato e dirige la rivista scientifica ES Journal e cura BR Stories, festival e mercato internazionale di realtà eh virtuale. Da quest'anno è anche consulente per i nuovi media tecnologie al Museo Nazionale del Cinema di Torino e recentemente in qualità di curatore ha firmato la mostra Futuri Passati nell'ambito della Biennale Democrazia curata dal Polo del Novecento di Torino. E inoltre eh anche eh la mostra Faccia Emozioni insieme a Donata Presenti Campagnoni per il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tra le sue pubblicazioni vogliamo ricordare oltre il cinema pubblicato nel duemiladieci, Screen City nel duemiladodici, Visioni Digitali pubblicato nel duemilasedici e L'Occhio della Macchina pubblicato nel duemiladiciotto. Il suo ultimo libro è Immersi nel futuro eh di cui parleremo insieme oggi e mentre in uscita eh lo possiamo dire eh lo possiamo dire cinema futuro futuro futuroologia del cinema. Allora tra poco lascerò la parola direttamente al professore Arcagni che ci racconterà eh la genesi eh di questo progetto e mi limiterò semplicemente a fare qualche breve considerazione introduttiva. Eh la prima cosa che vorrei sottolineare mi piacerebbe sottolineare di questo eh libro è che si tratta appunto di un libro bianco ossia un vero e proprio strumento di indagine e di raccolta e non a caso la parola strumento eh appare proprio nelle righe introduttive di questo volume. E allora bisogna chiedersi eh quale sia la funzione di questo strumento. Ehm Immersi nel futuro ci offre una via per orientarci nel multiforme mondo della realtà virtuale affrontando eh questioni centrali a diversi livelli e soprattutto in diverse direzioni. Ehm in primo luogo ci aiuta ad esplorare la domanda stessa a esplorare la domanda su cosa sia la realtà virtuale o se preferiamo al plurale quali siano le realtà virtuali facendoci scoprire quali sono gli ambiti di applicazione e le nuove tecnologie utilizzate in ambiti come tra gli altri la televisione, il cinema, il teatro e i beni culturali in senso ampio. In questo volume come sicuramente poi eh vedremo insieme sono raccolti saggi di professionisti che lavorano con la realtà virtuale ma anche di studiosi che svolgono la loro ricerca su questo tema ma anche interviste e testimonianze in una parte eh diciamo molto a mio avviso molto efficace molto bella perché ci offre questa traccia diretta no? Dell'esperienza eh della realtà virtuale. Ehm possiamo dire in un certo senso che eh ci troviamo di fronte a una sorta di doppio eh processo in questo volume. Da una parte come abbiamo detto ci troviamo di fronte a una raccolta, un'antologia di esperienze eh a un volume chiaramente ben strutturato e diviso in modo chiaro in sezioni che ospitano i diversi tipi di contributi. Eh si potrebbe anche dire che il volume costituisca una risposta a una delle questioni che lo stesso professore Arcagni ehm fa emergere riguardo allo storytelling della realtà virtuale e mi riferisco in particolare a una frase che mi ha colpito che adesso vi leggo eh che si può riferire a mio avviso a tutta la un po' a tutta la totalità dei fenomeni e delle manifestazioni che riguardano la realtà virtuale. Questa è la frase. Ogni contenuto fa ancora storia a sé. Non esiste un ciclo produttivo, non esistono parametri, ancora non sono emersi degli standard. Ciò che lo rende ciò lo rende un periodo piuttosto esaltante creativo ma allo stesso tempo anche un periodo difficile da catalogare e osservare poiché pressoché ogni opera ha un prototipo e inoltre la difficoltà di visionarle rende difficile la comparazione e di conseguenza la nascita di un percorso critico. Ecco credo che eh questo libro incoraggi proprio anzi non solo incoraggi ma eh sia fondamentale appunto come strumento per la creazione di un percorso critico intorno alle tante diverse dimensioni della realtà virtuale proprio in virtù della natura di come questo volume è costituito. Dall'altra il secondo processo eh per così dire eh accade qualcosa che non è diciamo materialmente insito nel libro ma qualcosa che accade direttamente nell'esperienza di questo testo nella sua lettura. Ciò che viene offerto al lettore o almeno ciò che questa lettura ha suscitato nella mia esperienza è la possibilità proprio di creare percorsi inediti, di cogliere assonanze tra i vari contributi, di cogliere gli stili diversi e i vocaboli comuni allo stesso tempo. Ecco che procedendo man mano nella lettura per esempio si incontrano diverse definizioni di realtà virtuale tra cui eh per citarne qualcuna moltiplicatori di creatività oppure processo di dilatazione dello spazio percepito. Ecco che tutte queste definizioni che già ci dicono un po' da dove arrivano e un po' dove portano ehm costituiscono proprio l'intreccio di queste definizioni costituisce a mio avviso la ricchezza. Quindi questo volume eh per dirlo in modo sintetico eh non è solamente un insieme di sguardi ma costituisce un dialogo indiretto a volte diretto tra questi sguardi e quindi grazie a questa natura plurivoca possiamo dire che il lettore acquisisce la capacità di far emergere queste connessioni tra le diverse esperienze. E chiudo eh perché già ho parlato troppo dicendo una cosa molto banale che questo volume non riguarda solamente ovviamente studiosi e professionisti. Chiaramente eh noi siamo molto contenti eh di ospitare il professore che ci parlerà di questo libro all'interno eh di questi nostri eventi che riguardano comunque un'equipe di ricerca eh ma sicuramente ehm questo è davvero un volume che riguarda tutti poiché come si legge in alcuni passi la realtà virtuale è una tecnologia che sta rivoluzionando il nostro presente, il nostro futuro. Ehm quindi ecco i percorsi anche futuri descritti in questo volume sono un processo che sicuramente ci riguarda tutti e credo che sia il motivo per cui anche in tanti virtualmente siamo qui così numerosi. Non aggiungo altro eh ringrazio ancora il professore per aver accettato di partecipare al nostro ciclo di incontri e cederei a lui la parola. Beh grazie grazie davvero mi hai fatto anche un po' arrossire la presentazione bellissima non direi non aggiungerei altro ho paura di rovinare il livello della presentazione del libro. Eh no grazie davvero ma sono ringraziamenti sentiti grazie a Andrea grazie Fabrizia grazie a tutti voi del gruppo Anicon se mi permettete mi prendo solo un secondo per fare anche un un ringraziamento e un saluto molto personale a un amico eh buon compleanno Marco Bertozzi e e detto questo che vedo collegato con noi e ehm va bene io vorrei presentarvi il libro come è nato la sua genesi perché secondo me è interessante proprio eh e per me lo è stato come processo eh di ricerca in quella dimensione che a me piace molto e che cerco di seguire il più possibile cioè di di portare l'università nelle aziende nel nei processi facendola diventare un luogo davvero di ricerca e sviluppo utile per eh aziende o enti culturali come in questo caso la RAI e infatti questa eh questo volume è il punto di approdo di una ricerca che è stata sostenuta da RAI Cinema e da Ufficio Studio RAI eh perché eh hanno eh voluto ehm sostenere questa ricerca beh uno per la mission che è di RAI cioè quella di provare a intercettare nuovi pubblici eh monitorare le nuove tecnologie soprattutto nell'ambito dei media eh provare a mettere in campo nuovi storytelling nuovi racconti e anche ehm orientarsi in quelli che vengono chiamati nuovi formati la RAI tra l'altro ha una una divisione che si chiama proprio nuovi formati eh che si occupa della sperimentazione in questi in questi ambiti quindi la RAI aveva come mission questa e poi aveva una mission a una mission molto più specifica sulla realtà virtuale io la chiamo VR realtà virtuale ma stiamo parlando soprattutto di video 360 immersivi o VR 360 e meno di VR real time adesso poi magari ne approfondiremo su questo ma chiamiamo VR quel mondo appunto di di video immersivi eh perché RAI Cinema da qualche anno ha una piattaforma sua eh proprietaria che si chiama RAI Cinema Channel VR che ospita eh contenuti esperienze come vengono chiamati nell'ambito della VR eh appunto immersive e in alcuni casi anche le le produce eh quindi RAI si trovava in un momento in cui voleva entrare in un mercato voleva provare a capire che cosa stava succedendo internazionalmente e sul territorio italiano chi erano gli attori chi erano i protagonisti quali erano le tecnologie quali erano le criticità che emergevano e quindi aveva bisogno di una una mappatura e quindi in questo eh questo è stato l'indirizzo della della ricerca abbiamo trovato poi all'interno del del dell'università di Palermo abbiamo attivato delle delle due eh borse di ricerca due assegni di ricerca eh che appunto hanno fatto poi il lavoro di 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 catalogazione del lavoro che adesso vi vi racconto in breve e abbiamo trovato nella University Press una una casa editrice eh che avesse voglia di mettere la versione digitale in open access anche in questo caso per venire incontro all'idea di uno strumento utile aperto accessibile sia a studiosi che a eh operatori eh operatori del settore. In questo momento stiamo lavorando eh alla versione inglese eh a quella francese e probabilmente a quella cinese eh frutto di un accordo con uno dei nostri partner che è stato partner sin dall'inizio che è il World XR Forum eh il la conferenza sulle realtà immersive che si tiene ogni anno eh a Ginevra a Chrome a Cramontana nello specifico vicino a a Ginevra che sta credendo nel progetto e la cosa interessante è che ovviamente per ogni edizione non è non cambia solo la lingua ma poi verranno aggiunte delle interviste verranno aggiornati alcuni elementi ovviamente che si rifanno allo specifico del di quel mondo geografico di quell'area geografica in cui stiamo ci stiamo muovendo questo per darvi il 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 panorama eh vi dicevo una una mappatura con quale metodologia intanto la metodologia di un osservatorio l'idea era quella proprio di creare un osservatorio e e come tutti gli osservatori avevamo bisogno di raccogliere più informazioni possibili e le più aggiornate possibili eh abbiamo lavorato quindi sulle tecnologie andando a ehm vedere eh le tecnologie emergenti quelle che sono in studio quelle che stavano entrando sul mercato quelle che dovrebbero entrare sul mercato e così via abbiamo lavorato sulle piattaforme quali sono quali contenuti aggregano come si muovono come si muovono sul mercato se fanno pagare i contenuti o meno se li fanno in download o in streaming e via dicendo abbiamo lavorato sui produttori che cosa producono come anche con quanti soldi eh con quale distribuzione con quale promessa di visibilità abbiamo parlato con i festival soprattutto e abbiamo eh aggregato i festival perché i festival perché in questo momento in cui non c'è un sistema distributivo eh istituzionalizzato il festival è uno dei luoghi importanti eh dove convergono più contenuti che arrivano da paesi diversi che hanno budget diversi finalità diverse e riescono lì a trovare un proprio pubblico e dare la propria visibilità abbiamo lavorato sulle conference sulle conference internazionali perché anche in quelle non solo trovevamo i produttori ma trovavamo anche gli studiosi e i critici che avevano desiderio di eh offrire un loro contributo nella lettura eh di questi di questi contenuti ehm il primo lavoro fatto è stato quello appunto bibliografico abbiamo cercato di radunare in maniera critica e pensata il meglio della bibliografia eh internazionale saggi articoli libri tesi di laurea tesi di dottorato eh in questo è stato molto utile l'aiuto di ufficio studi RAI eh che ci ha messo a disposizione anche tutta una serie di eh archivi bibliografici e di documenti che se no non sarebbero stati eh utilizzabili perché sono di proprietà di EBU. EBU è l'European Broadcasting Union, è l'unione dei broadcaster europei che ha fatto diverse, ha realizzato diverse ricerche sulla VAR in questi anni mh che però sono confinate lì, non sono in open access e quindi l'ufficio studi RAI ci ha permesso di individuarle e poi EBU ci ha permesso di 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 studiarle. Eh in questo abbiamo trovato per esempio la storia eh della della realtà virtuale in BBC, in France Television, Arte e via dicendo. Ehm questi dati però non erano per noi sufficienti eh e quindi come giustamente ha sottolineato Fabrizia abbiamo provveduto a fare delle interviste mirate eh chiedendo a creativi, produttori, registi, sviluppatori e e via dicendo ma anche giornalisti eh fondamentalmente quali erano le cose più interessanti che avevano visto? Perché? Quali tecnologie trovavano migliori? Perché? Che cosa vedevano di sviluppo da qui ai prossimi eh ai prossimi anni? Eh l'ultimo elemento per noi fondamentale poi è stato quello di eh capire fin da subito che se anche il nostro focus era molto diretto cioè questi mh contenuti, esperienze immersive in realtà virtuale eh e tra l'altro entro quelle quelle che avevano una carica più cinematica cioè che fossero documentari o fiction avessero un programma stretto eh con la narrazione, con lo storytelling ecco nonostante avessimo un focus molto eh preciso eh molto dettagliato eh era fondamentale che ci aprissimo ad un approccio multidisciplinare cioè eh guardare questi contenuti, queste tecnologie da più punti di vista e quindi abbiamo eh abbiamo chiesto e ottenuto graziosamente eh l'aiuto di centri di ricerca, studiosi ehm dipartimenti come a Nikon tra l'altro che ha partecipato ehm e gli abbiamo chiesto di dirci qual era il loro approccio eh che cosa stavano studiando, da quale punto di vista ovviamente sempre sulla VR tra virgolette cinematica e quali secondo loro erano le mh gli strumenti che avremmo dovuto affinare che provenivano dalle loro discipline. Quindi abbiamo avuto interventi dal punto di vista della sociologia, dell'estetica, delle scienze cognitive, dell'informatica, della visione, della gli studi di cultura visuale, dei media, della semiotica e dell'arte ovviamente nell'ambito della digital art e new media art. Questo diciamo l'ossatura per poter mettere in campo eh questa mappatura, questo osservatorio. Eh in questo ognuno ha dato il proprio pezzo dal proprio punto di vista ma c'è stata una regia che ho condiviso appunto con oltre i miei collaboratori anche con Ufficio Studi Rai e con Rai Cinema per appunto far dialogare da subito queste molte anime. Cioè l'idea era quella di non collazionare e farne una rubrica ma vedere i punti di 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 punti in comune, quelle invece eh le analogie, le i punti critici, le differenze e via dicendo metterle subito in eh in evidenza. Il mio lavoro poi è stato fondamentalmente quello di eh raggruppare, farmi aiutare nel raggruppamento di 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 tutti questi dati e poi farne una rielaborazione fondamentalmente in tre capitoli che erano quelli che erano stati chiesti esplicitamente dalla eh da Rai Cinema e Ufficio Studi Rai che erano quelli uno della mappatura internazionale. Chi produce? Cosa? Come? Dove? Quando? Perché? Sembra il manuale del giornalismo del bravo giornalista ma è stato esattamente questo a livello internazionale. E le stesse domande a livello nazionale restringendo il campo fondamentalmente agli ultimi quattro cinque anni di produzione. Questo per dare conto di un processo in corso. Molti di quelli che producono in VR fanno una produzione e poi smettono oppure si dedicano poi ad altro o sono arrivano dalla produzione cinematografica, sono incuriositi ma poi si ritraggono anche perché non c'è un mercato e e quindi questo procura qualche problema dal punto di vista economico finanziario. Quindi focalizzare gli ultimi quattro cinque anni era anche per provare a fotografare delle linee di continuità. L'ultimo capitolo che è stato da un certo punto di vista quello più difficile ma anche più più interessante dal mio punto di vista era quello di provare a capire quali sono le criticità ma anche i punti interessanti di sviluppo da qui ai prossimi anni. Cioè un lavoro un po' da futurologo ma con molta umiltà per cercare di vedere dove le aziende stavano sviluppando, dove i broadcaster stavano sviluppando, dove sembrano dirigersi per esempio i grandi investimenti delle grandi società di ICT. Eh ecco questo era un un elemento interessante eh vi accenno a qualche cosa poi magari sarà eh oggetto di 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 domande successive per esempio abbiamo visto il convergere di alcune risposte eh l'idea che la tecnologia debba diventare molto più leggera l'elmet anche se si sono alleggeriti sono ancora considerati un oggetto molto pesante da mettere in testa e poi chiudi e fai l'asset e metti le cuffiette e lo attacchi alla televisione cioè è un è una tecnologia ancora molto pesante proprio da più punti di vista quindi l'idea è quella che potrebbe diventare una tecnologia forte anche home nell'entertainment a casa solo nel momento in cui diventano qualche cosa di poco più che degli occhiali. Un altro elemento fondamentale eh su cui per esempio convergono tutte le risposte per esempio dei broadcaster è che il momento di rottura ci sarà quando i video trecentosessanta gradi potranno essere visti eh con comandi vocali o comandi di sensori con le mani eccetera sugli schermi televisivi cioè quando nelle case ci saranno schermi smart tv di nuova generazione allora solo questo sarà il momento in cui ci potrà essere una familiarità con questo tipo di contenuto. Eh un altro elemento fondamentale è una mancanza anche questo li citava giustamente eh Fabrizia all'inizio una mancanza di standard quindi in questo momento quando si fa l'investimento su un caschetto su una tecnologia si accede a quel mondo ma si rischia di rimanere al di fuori di tutti gli altri eh e questo non facilita la familiarità nel 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 nell'accesso appunto ai eh ai contenuti e anche questo è considerato uno sbarramento. C'è uno sbarramento anche di tipo economico anche se questa abbiamo visto poi essere un falso un falso sbarramento cioè in molti ci hanno risposto che la spesa di quattro cinque seicento euro quello che adesso costa bene o male un oculus di nuova generazione è considerata una spesa pesante. Secondo noi però è un po' un'immagine falsa nel senso che è lo stesso costo che hanno la playstation ma le playstation ci sono in quasi ogni casa e quindi il problema è che è una è una spesa considerata alta per i pochi contenuti che invece queste offrono ancora quindi non è davvero la spesa ma è la spesa all'interno di un immaginario che non è scattato di un desiderio per questi contenuti che non è non è non è scattato. Ehm l'altro punto secondo me è interessante invece un punto che attiene più all'elemento industriale produttivo e che attiene un po' al a quello che all'inizio del libro io dico essere lo scacco della VA cioè per chi ha seguito un po' i processi della della realtà virtuale sa che quattro anni fa si diceva nel giro di un anno tutti avremo la voare a casa non è successo l'anno dopo no no abbiamo sbagliato era il 2019 la deadline non è successo 2020 non è successo allora l'idea è un flop è stato un flop la voare allora se per voare si intende il eh un dispositivo per contenuti di entertainment casalinghi sicuramente è stato un flop i numeri di VR nelle case è bassissimo se si intende l'industria che produce VR sia dal punto di vista delle tecnologie sia dal punto di vista dei contenuti assolutamente no eh i numeri delle aziende che fanno che realizzano cose di questo genere sono altissime dove vanno allora vanno in altri ambiti vanno in ambito medico marketing scienza moda eh aeronautica eh automotive eh difesa eh parchi a tema vanno in tutto un mondo che interseca con l'entertainment ma che non ha nell'entertainment il suo peso fondamentale tant'è che le aziende che in questo momento le grandi aziende informatiche in questo momento la maggior parte delle loro investimenti lo fanno proprio nello sviluppo di queste tecnologie o meglio dell'insieme delle tecnologie immersive quelle che loro chiamano XR extended reality cioè la commistione la possibilità di sviluppare tecnologie che prevedono la commistione tra augmented reality mixed reality virtual reality video mapping o augmented reality projection eccetera 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 quindi c'è un'industria che vede la VR come un pezzetto di una costruzione di mondi immersivi poi da realizzare per i social per la comunicazione per mille per la didattica a distanza per mille altre cose e una VR invece in quanto surrogato della televisione che non ha funzionato quindi anche lì bisogna o che meglio non è ancora non è riuscita ancora a svilupparsi nella maniera in cui si si pensava potesse svilupparsi eh all'interno di questo panorama eh quindi da un punto di vista chiamiamolo più critico teorico mi mi sono trovato eh in quella che ehm è stata già prima citata in una fase in cui ogni contenuto è un prototipo eh io l'ho chiamata la fase Lumière ma non per altro perché proprio come nella fase Lumière eh ci troviamo davanti a eh un dispositivo obiettivamente nuovo eh che produce contenuti nuovi spettacolari ma non ci troviamo di fronte a un assetto industriale e commerciale perché ancora non sa bene che cosa farsi e ancora come nella fase Lumière non si sa se venderla come una macchina fotografica che dà la fotografia in movimento se se usarla in ambito scientifico se farne un oggetto di accompagnamento del circo del teatro e via dicendo quindi manca ancora un assetto industriale mancano gli standard manca un profilo critico che accompagni la neonascente storia di questi di questi contenuti di questa tecnologia e con noi siamo in in quella fase eh in quella fase lì in questa fase è fondamentale i risultato fondamentale il problema dell'aggiornamento che non è soltanto sapere tutto quello che esce o tu o correre dietro a tutte le tecnologie ma è un aggiornamento anche nel nostro vocabolario è un aggiornamento anche nella nostra conoscenza come dicevo prima degli ambiti disciplinari che convergono intorno a questo oggetto multiforme misterioso in continua in continuo processo abbiamo dei problemi disciplinari normalmente nei famosi tavoli multidisciplinari accade spesso voi siete ma lo dico non per piageria ma siete un po' un unicum in Italia capita spesso di trovare l'informatico che viene dice la sua cosa e poi se ne va il sociologo che viene dice la sua cosa e poi se ne va e il lo studioso di new media che dice la sua cosa e poi se ne va spesso tra l'altro senza neanche aver condiviso un linguaggio comune e quindi troviamo ancora per esempio appunto la 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 difficoltà di condividere linguaggi focalizzazioni proposte di tipo critico e teorico in un tavolo con discipline diverse è evidente che la criticità più forte viene nel dialogo tra le materie chiamiamole umanistiche in generale e quelle informatico politecniche eh però è evidentemente questa ancora una criticità che in qualche modo non è non è eh stata eh superata eh tant'è che ancora eh facciamo fatica a noi che proveniamo da studi appunto di tipo umanistico che ci occupiamo di media che ci occupiamo di cultura visuale e via dicendo a mh ancora muoverci in questo mondo che eh informatico in cui invece fa una grossa differenza nella machine vision tra computer vision e computer grafiche tra computer eh CGI e machine learning che eh fa una grossa differenza tra una grossa differenza tra computer vision e imaging ehm differenze non solo tecniche ma proprio nella produzione dell'immagine e nella eh prototipazione dei dispositivi che poi danno formano producono investono o rielaborano queste immagini eh abbiamo ancora bisogno di un dialogo forte e di vocabolari eh condivisi appunto tra ambiti disciplinari diversi ehm quello che emerge è un un'accelerazione dal punto di vista informatico tecnologico eh dove anche queste discipline e anche la realtà virtuale viene investita sempre più per esempio dagli sviluppi delle intelligenze artificiali eh dove le parole chiave che sembrano giocare un ruolo più eh significativo sono quello dello spatial computing e quindi di tutta quella quella quegli sviluppi di computer spaziale come lo chiamano appunto in ambiti informatici eh che vede soprattutto lo sviluppo della fotogrammetria cioè la possibilità di eh creare ambienti che sono misti tra CGI e fotografico realistici e poi c'è anche questo ambito che è stato un po' più preso dal marketing ma che è un ambito molto interessante quello del cosiddetto omni channel cioè la l'idea di costruire esperienze eh chiamiamole narrative ma esperienze in generale uguali su tutti i canali indipendentemente che questi canali siano online o offline eh abbiamo assolutamente bisogno proprio nella prospettiva in cui la VR entra in questo grande mondo della XR di essere di costruire tavoli di condivisione vocabolari condivisi e aggiornamenti eh continui con eh questo mondo appunto di eh tecnologico in continua accelerazione questo eh ripeto non solo per eh usare le parole giuste ma proprio per provare a capire meglio ma anche a eh costruire ponti che possano orientare indirizzare poi gli gli eh gli usi gli sfruttamenti le 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 costruzioni produttive di contenuti culturali attraverso queste eh queste macchine eh io direi che forse per la prima tornata potrebbe essere eh a sufficienza poi ovviamente mi piacerebbe eh andare a focalizzare alcune cose con le vostre con le vostre domande certo benissimo grazie eh è stata una presentazione che già ci ha dato sicuramente molti spunti eh che sicuramente le domande che seguiranno eh daranno ulteriori stimoli a questo a questo dialogo a questa conversazione quindi invito ehm chi desidera eh fare rivolgere delle domande al professore Arcagni di scrivere il proprio nome nella chat ehm nel frattempo eh magari eh inizio io con una breve semplicissima e sinteticissima eh domanda nel senso che come come è inerso da quello che ha detto comunque ci troviamo veramente in un continuo eh fluire di nuovi eh nuovi dispositivi di nuove tecnologie di nuove applicazioni quindi benché il libro sia veramente eh recente mi chiedevo se quali eh ulteriori nuovi sviluppi magari ci fossero in vista o sono rimasti in qualche modo esclusi per una questione proprio di della velocità con cui si evolve questa dimensione. Beh quello che sta accelerando di più è l'ambito social ed educational ovviamente legato al covid e alla alla dad eccetera eh le aziende stanno veramente imprimendo un'accelerazione per creare questi ambienti immersivi completamente interattivi in cui sia possibile entrare sotto forma di avatar e condividere spazi, conoscenze, contenuti e via dicendo. Lì c'è un'accelerazione fortissima e poi c'è un'accelerazione ehm anche dal punto di vista della creazione di piattaforme eh anche perché tutti aspettano come una sorta di 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 linea di rivoluzionaria al 5G per avere davvero lo streaming perché se tu non hai piattaforme con lo streaming è difficile fare anche dei grossi fare degli investimenti sui grossi aggregatori. In questo momento lo streaming non è facile avere una brutta esperienza dentro la realtà virtuale è davvero ehm eh scusate gioco è brutto cioè eh e soprattutto non non ti fa venire voglia di continuare avere la pixelation o addirittura il il buffering mentre stai facendo un'esperienza dentro un mondo a tre sessanta è qualche cosa che proprio ti 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 respinge. Quindi 5G e social educational. Grazie. Eh allora quindi eh darei la parola ad Andrea per la prima domanda però ecco è necessario riattivare l'audio. Pensavo di averlo già fatto grazie stavo dicendo di cuore Simone per questo tuo intervento perché a tua volta tu sei un un unicum credo nel nostro panorama di studiosi che si occupano di realtà virtuale di nuove tecnologie perché hai dei legami molto forti con il mondo degli stakeholders non accademici con il mondo delle imprese con il mondo dei festival e quindi io penso che eh il tuo esempio sia assolutamente paradigmatico per cercare di portare fuori queste ricerche dall'accademia verso queste realtà che queste eh tecnologie che producono applicano non applicano non a caso il nostro progetto c'ha un asse proprio che si intitola practices perché siamo interessati agli aspetti applicativi e non semplicemente agli aspetti teoretici o storici legati alla realtà virtuale ma ehm una domanda molto intima da farti privata non so se mi vuoi rispondere in chat personale ma tu quanti caschi hai no scherzo ma eh è per riprendere quella problema degli standard che tu hai sottolineato e dei contenuti perché noi eh pur avendo a disposizione appunto un progetto europeo siamo molto frustrati a volte anche irritati dal fatto che per quanto cerchiamo di avere eh l'Oculus Rift, il Quest, il Go, il Vive, il Quest e quest altro quello alla fine ci rendiamo conto distribuendoci un po' i caschi tra di noi che quando vogliamo vedere qualcosa abbiamo sempre il casco sbagliato abbiamo sempre il casco sbagliato c'è successo quella biennale di Venezia in sezione VR c'è successo in tante altre occasioni e ehm c'è una sproporzione totale tra eh la riflessione che noi conduciamo ehm su certi contenuti pensiamo ad esempio a quanto abbia attirato la nostra l'attenzione di molti di noi in questi ultimi anni dal diciassette da quando è stato presentato a Cannes carne e gli arena no? Però di carne e gli arena se non sei stato fortunato avere beccato quello eh slot e avere potuto prenotarlo essere stato lì d'accordo che carne e gli arena non è solo il momento della realtà virtuale è una è un politica è un'installazione tante altre cose ma c'è un'enorme difficoltà nell'accessibilità di questi contenuti ed è molto frustrante da questo punto di vista quindi volevo riprendere e rilanciare questo tema che mi sembra un tema anche per fare ricerca su queste cose alla fine poi ti trovi ad avere a che fare sempre in vari comunque due o tre contenuti che possano circolare su più piattaforme ma è molto difficile anche studiarli fare esperienza banalmente di questi di questi oggetti. È vero. Grazie. Questo è è il problema lo accennavo prima cioè è il problema fondamentale ehm io comunque ho poco ho l'Oculus Quest 2 ho quello della PlayStation e eh ho un umido cioè quello da quel normalissimo per mettere lo smartphone la differenza sai qual è è che eh essendo sempre in contatto con i produttori distributtori festival eh io vado nelle aziende e le aziende hanno invece due tre quattro cinque ehm visori diversi hanno l'abbonamento a piattaforme diverse mi faccio un paio di giorni lì proprio in 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 full immersion in questo senso è è perfetta la parola eh oppure le aziende mi 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 mandano a casa il visore per una settimana mi vedo le cose che loro ci hanno inserito poi lo rimando eccetera però è un percorso a ostacoli e questo ci dice eh anche il perché nonostante ormai ci siano tanti contenuti anche che hanno avuto un certo successo eh tu hai citato Carni Arena c'è anche Dunkirk Dunkirk Experience Afex ce ne sono tanti però se fai conto non è nata ancora per esempio una rivista che si occupi dal punto di vista della critica di Voir eh è stato studiato spesso come la storia del cinema è stata poi sostenuta e aiutata dalle riviste che in qualche modo hanno cominciato no a dire c'è questo il regista è questo l'anno di produzione è questo eccetera eccetera è difficile persino realizzare questo tipo di 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 cose perché è difficile andare a vedere eh devo dire che in questo momento sto vedendo che almeno i due le due più grosse piattaforme che sono Vive, Viveport e quella di Oculus stanno tentando di fare in modo che tutti i loro contenuti si si siano aggregati nello stesso modo eh quindi per esempio gli art chat si vede sia uno che nell'altro stanno cominciando dei dei tentativi manca ancora il grande aggregatore super partes come può essere Netflix o è stato anche ai tempi iTunes in parte che permette almeno di vedere il 60 il 70 per cento delle delle cose questo è evidente quindi come dicevo prima il ruolo dei festival in questo momento è fondamentale così come diventerà fondamentale il ruolo delle sale in Italia se ne stanno approntando alcune io sono appunto consulente al Museo Nazionale del Cinema di Torino ad aprile covid volendo apriremo questa sala eh dentro la mole antonegliana in cui ci sarà proprio una programmazione quindi ogni settimana ogni due settimane eh ci saranno contenuti diversi documentari fiction eh cinematici eh interattivi eccetera 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 e lì di se ce ne saranno di più sul territorio nazionale so che ci sono altri tentativi Milano e Roma eh allora lì a questo punto si si potrà davvero cominciare a a far diventare familiari questi questi contenuti il ruolo della sala per me sarà sarà centrale mh però sì il momento è questo ok grazie eh perfetto allora do la parola a Barbara che non ecco adesso posso prima non potevo eh dobbiamo dare un attimino a Roberto per darci di tempo di scusate sempre tutto un pasticcio no grazie tantissimo Simone per davvero per questa bellissima panoramica che ha messo a fuoco tantissimi punti l'ultimo anche di cui si è parlato mi preme molto perché lotto continuamente con questa cosa del dov'è quel contenuto perché non lo raggiungo col quest però volevo chiedere in realtà un'altra cosa che riguardava l'aspetto della fotogrammetria che a me piace tantissimo interessa tantissimo e ogni tanto chiedo insomma ai vari ospiti dei seminari questa cosa allora ehm siccome mi sembra un po' che sia il punto di connessione principale tra i vecchi media e la voir no e siccome mi interessa molto capire come si innesta il cinema sul voir ma non solo dal punto di vista dei linguaggi cioè del fatto che insomma si usa una grammatica vagamente filmica no ma proprio questo tessuto questa natura anche dell'immagine in voir che può essere verosimile che può essere fotografica appunto e stante anche che molti autori che mi stanno cari sostengono che la fotogrammetria sia quella versione della fotografia che ha fondato di fatto il digitale perché è la versione numerica della fotografia una fotografia in quanto calcolo anziché in quanto impronta no per cui lì c'è tutta un'archeologia in qualche modo del digitale che che mi interessa e volevo capire se mi potevi dire qualcosa di più della relazione tra i prodotti in voir entertainment e la fotogrammetria se c'è qualche linea prevalente eccetera ti ringrazio no grazie a te e allora linee prevalenti non ne vedo anche perché sulla fotogrammetria ci stanno ancora lavorando in fase esplorativa so che chi ci sta lavorando di più di tutti è facebook perché ci sta credendo ci sta credendo molto in questa creare degli ambienti virtuali che però nascono da un calco fotografico reale penso meno in chiave diciamo storytelling entertainment e più in chiave social condivisione di spazi e via dicendo da un punto di vista cinematico io devo dire che uno dei documentari più belli e qui apro una parentesi il mondo del documentario secondo me è quello dal punto di vista cinematografico che più si si avvantaggia della della tecnologia immersiva ecco dentro a questo uno dei più belli è stato fatto proprio con la fotogrammetria è after solitary che si riesce a trovare abbastanza facilmente ha vinto diversi premi è la storia vera di questo giovane americano che ha passato non mi ricordo se sette otto anni in una camera in un carcere ma in una in una in confino in confinamento quindi in una stanza di mi sembra tre quattro metri quadrati senza poter parlare con nessuno il risultato è meraviglioso nel senso che i registi hanno fotogrammato la cella e gliel'hanno riprogrammata fuori e l'hanno fatto ritornare nella cella virtuale fotogrammata per raccontarci quello che c'era era successo d'altra parte essendo un ambiente in fotogrammetria permettevano a noi indossando il caschetto di entrare in quella cella è vero noi non avevamo poi il solido di fianco però vi posso assicurare che stare dentro quella dimensione tra l'altro una fotogrammetria perfetta fatta con le camere i8 di una qualità pazzesca dava davvero questa idea di chiusura di clausura con la voce del protagonista che ci spiegava la sua giornata dove lui non vedeva il sole la luna cioè non vedeva niente quindi la sua giornata erano le urla degli altri carcerati la mattina le urla pranzo le urla sera davvero qualche cosa di incredibile lì è stato fatto un uso davvero davvero molto bello altre cose non ne ho viste ho visto alcuni ho visto alcuni come si chiamano render di visite di musei con la fotogrammetria ecco questo è un altro ambito che però ha poco a che fare diciamo con la parte più cinematica cinematografica molto interessante ho visto delle cose una piccola cosa fatta in una piccola sala del rischio museum di amsterdam e che so che vogliono invece estendere proprio realizzare una sorta di doppio fotogrammetrico di tutto il museo non so se lo faranno penso che sia molto costoso soprattutto se lo si fa ad elevati standard di qualità però questa potrebbe essere una dimensione interessante perché potrebbe innescare anche degli storytelling e cioè immaginatevi il qualcuno che vi conduce in queste sale vi permette la visione costruisce un processo di 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 attraversamento sarà tutto un po da vedere ho risposto grazie non avevo ancora il microfono è la prima risposta che ho su questo tema mio entusiasmo molto andrò a vedere after solitary perché la cercavo proprio questa cosa di qualcuno è bellissimo after solitary lo trovi lo trovi veramente su quasi tutte le piattaforme se vuoi cominciare a vederlo lo vedi anche in 360 su youtube tanto per avere un'idea poi ovviamente se se lo vedi invoare è molto più interessante per me grazie mille smone ecco e allora la prossima domanda è da parte di elisabetta che è sempre un assegnista post doc del nostro progetto ecco 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 grazie grazie roberto buonasera io volevo chiedere questo tra l'altro mi ricollego anche a quello che stavate dicendo sullo sulla questione della del 360 lei ha appena detto può si può vedere anche su youtube in un video 360 e nel suo saggio ero rimasta colpita dal fatto che effettivamente si sottolineava il fatto che ci sono tanti tipi di immersioni nel senso che ci sono diverse modalità con cui noi ci riferiamo a un'esperienza immersiva nella realtà virtuale quindi questo le volevo chiedere questo se c'è una specificità secondo lei ehm tra queste diverse immersioni in particolare rispetto all'immersione che offre la realtà virtuale intesa proprio come illustrazione ehm all'interno diciamo di un ambiente 360 se ne è questo anche se c'era una specificità secondo lei dello storytelling in VR rispetto alle altre forme di storytelling tra l'altro lei ha anche avuto questo diciamo un punto di vista privilegiato nel lavorare con la RAI e quindi penso che questo sia un problema che loro si si pongono questo questo è un problema che loro si pongono certo eh ma non solo la RAI se lo stanno ponendo tutti non esiste un un carattere di storytelling cioè esiste una disponibilità della tecnologia a esplorare diverse forme di messe in scena e di storytelling in questo momento ognuno le sta le sta provando eh non è un caso che chi ha ottenuto i risultati migliori eh sono eh coloro che hanno prima di produrre hanno messo in campo dei centri di ricerca specifici per gli storytelling interattivi e immersivi quindi la Francia eh per esempio France Television prima di aprire il dipartimento VR ha aperto un dipartimento che esiste tuttora che si chiama Nouvelle Criture cioè nuove scritture cioè prima hanno studiato le possibilità e le disponibilità dei mezzi tecnologici e poi li hanno cominciati a piegare eh la stessa cosa ha fatto l'Olanda per esempio con San Marin Channel che ha lavorato e mh ha dialogato molto con il broadcaster nazionale la stessa cosa ha fatto Artè per esempio e non è un caso che sono quelli che poi hanno realizzato i contenuti migliori standard e modelli ancora non ce ne sono e forse anche un bene nel senso che eh la bellezza di vedere di vedere cose molto diverse inesplorate emozionanti risiede ancora in questa fase un po' tra virgolette selvaggia eh io devo dire che mh la cosa che mi sorprende di più è vedere chi riesce a immaginarsi modelli narrativi diversi io uno è vero carne di arena è bellissimo Dunkirk è bellissimo i prodotti di Baobab sono bellissimi le produzioni di Felix and Paul sono bellissime io da un punto di vista narrativo sono il mio cuore l'ho lasciato a Tales of Wedding Rings non so se qualcuno è riuscito a vederlo è un film in VR realizzato a partire da un manga ed è incredibile la prima cosa che si apre è il riquadro le cornici sul primo riquadro viene la primo il primo strip poi da questo riquadro se ne apre un altro poi se ne apre un altro alcuni riquadri se vai avanti si aprono si perde la cornice sei in un mondo a 360 se poi vuoi ritornare alla narrazione torni indietro e arrivano le strip è incredibile perché il il lavoro su sul su un modello così analogico e così cartaceo dei diversi frame dei manga diventa un continuo andare avanti indietro su dei mondi eh eh frontali e altri che invece puoi sfondare per farli diventare completamente 360 è a questo in questo momento io è la cosa più incredibile che ho visto dal punto di vista della narrazione cinematografica è ovvio che anche questo non può essere un modello non posso immaginare che tutti i racconti in VR eh siano dei manga in cui si aprono le cornici è stato bello eh questo tentativo perché ha lavorato su questa dimensione diciamo che quelli che vogliono fare fiction quello su cui stanno lavorando più di ogni altro settore è un montaggio realizzato sul suono perché il suono ti permette di focalizzare l'attenzione nel luogo in cui avviene un elemento narrativo perché è ovvio che se tu sei dentro una sfera e l'elemento narrativo che che designa il passaggio a una fase successiva avviene in un punto dove tu non stai guardando è è problematico eh allora per esempio il piccolo cortometraggio Invasion di Baobab non so se l'avete visto il coniglietto che salva la terra dall'astronave spaziale da quel punto di vista andrebbe studiato perché all'inizio senti il rumore dell'astronave spaziale ti giri ma perché ognuno di noi nella vita reale se sente un rumore anomalo va a cercarlo poi per vedere che quello è cattivo senti un un come si chiama il falco da lontano lo vai a guardare e l'alieno lo elimina allora in ogni momento il sound design è fatto in modo tale che tu non ti perdi automaticamente niente pur essendo libero di girarti dall'altra parte ho avuto un'esperienza non dirò mai chi la prodotta perché in cui a un certo punto mi devono far vedere un'azione che si deve far vedere mi mettono su una sedia inclinata che non si può girare con la testa rigida e io dico ma scusate ma io così non posso girarmi fa è ma se ti giri non vedi cosa succede io ho detto beh bravi avete inventato il cinema però e quindi tutto l'esperienza VR era in montaggio davanti a me perché io non mi potevo girare perché l'avevano girato a 360 ma se mi giravo mi perdevo quello che capitava questa è l'aberrazione del proprio del fatto tecnologico cioè io accedo a una tecnologia ma gli tolgo le sue potenzialità perché non so come sfruttarle ecco siamo ancora un po in questi regimi grazie grazie mille se ho visto anche io invece neanche asteroidi seguito sono adorabili quest'anno a Venezia c'era l'ultimo Baba Yaga che era veramente molto bello e aveva dentro anche due o tre elementi di interattività anche lì lo storytelling lineare con l'interattività può essere interessante perché l'interattività ti fa focalizzare su un punto che ti permette di andare avanti sulla narrazione e tra l'altro finché non svolgi quel compito non vai avanti quindi anche se stai girando con la testa ti obbliga ad andare poi in un preciso momento sono tutti tentativi sono tutte sperimentazioni grazie 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 mille bene grazie adesso la prossima domanda è di Federica sì buonasera innanzitutto volevo chiederle secondo la sua esperienza riconnettendomi un po' al problema che sollevava Andrea della difficoltà di reperire dispositivi e applicazioni per la realtà virtuale soprattutto nel contesto della ricerca dove al problema dell'invecchiamento dispositivi delle applicazioni si somma si sommano molto spesso i tempi tecnici per procedere all'acquisto di questi dispositivi e applicazioni lei parlava di come lei ovvia il problema fondamentalmente rivolgendosi all'azienda che è una via che anche noi stiamo cercando di percorrere mi domandavo appunto chiedendo a lei che ha mappato la situazione in Italia ma anche un po' all'estero se capisco bene se secondo lei un'alternativa non potrebbe essere l'istituzione di consorsi di ricerca in cui si mettano insieme risorse per insomma per procedere investimenti collettivi che consentono di ammortizzare i costi un po' sulla linea di quello che viene fatto per la ricerca neurocognitiva in cui eh chiaramente non è che ciascun gruppo di ricerca si compri la propria risonanza magnetica ma molto spesso eh mette in comune i fondi con altri gruppi eh del territorio. Eh sì eh io nel nel capitolo conclusivo del libro in cui eh Rai mi ha chiesto esplicitamente anche di definire quali potevano essere le politiche che metteva in campo Rai per ovviare agli stessi problemi che avete voi eh perché ha gli stessi identici problemi una delle cose a cui io eh su cui ho 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 dato una particolare attenzione è quella che bisognerebbe riuscire a creare un network eh un network tra aziende broadcaster produttori e eh luoghi di ricerca che possa avere un luogo fisico che permetta di mandare i ragazzi più giovani quelli più eh più i dottorandi post dottorati ma anche i ricercatori gli studiosi che vogliono fare uno specifico possono andare lì a fare una residenza di un giorno di sei mesi trovando l'ultimo Vive l'ultimo Oculus gli abbonamenti a tutti e le piattaforme ehm questo sarebbe questa sarebbe la 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 il sogno che è quello che ehm negli ambiti dell'informatica si si fa per esempio pensate ehm come si dice al centro per l'intelligenza artificiale italiano dove acquistano tutte le le i computer più avanzati li tengono aggiornati e tutti quelli che studiano possono eh andare e usufruire eh questa sarebbe sicuramente la la strada eh io però volevo aggiungere una piccola cosa sulle aziende perché anche prima con eh la domanda di Andrea eh noi facciamo gola alle aziende cioè una cosa che poco si dice è che le aziende stesse comprano acquistano sviluppano eh mettono informatici ma poi devono capire come maneggiare queste cose cioè non è che possono pensare sempre di prendere l'ultimo software e farne un aggiornamento devono immaginarsi mercati nuovi e i mercati nuovi sono fondamentalmente mercati che hanno a che fare con l'ambito culturale eh in senso lato la comunicazione la moda il marketing i musei il cinema eh la 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 didattica la formazione eccetera allora per immaginarsi la declinazione delle tecnologie in questi ambiti non c'è altro che le ricerche che facciamo noi quindi anche lì il 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 tentativo è sempre di più quello di poter eh istituire delle forme di complementarietà in cui eh parte della ricerca viene svolta eh con con le aziende che a loro volta mettono a disposizione il meglio delle tecnologie è è uno sforzo da fare anche da parte della dell'università che deve riuscire a trovare delle formule più semplice per i contratti per queste per quest'altro però un modello noi ce l'abbiamo già che è quello dei politecnici cioè noi possiamo dire tutto quello che vogliamo dei politecnici ma i politecnici quando vogliono fare una eh un collegamento con la Fiat piuttosto che con IBM lo fanno in due settimane cioè non è che hanno bisogno di 40 carte sette consigli di dipartimento il sì del 70 per cento del senato accademico lo fanno perché è nella mission eh questo quindi è un modello che già c'è è un modello che c'è già nell'università potrebbe essere svolto io devo dire la verità eh Rai da questo punto di vista per me è stato un ottimo un ottimo referente eh nel senso che non solo mi ha sostenuto la ricerca mi ha lasciato molto libero di svolgerla eh mi ha aiutato laddove mi 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 poteva mi doveva aiutare e soprattutto è stata molto ricettiva anche nella costruzione del network ed eventualmente dell'osservatorio poi ci sono tutti tutti i tempi tutte le dinamiche però poco alla volta stiamo istituendo luoghi in cui eh questo sta avvenendo quindi io devo dire questo è un caso poi ci sono anche altre aziende mh sono posso testimoniare con lentezza ma dovuta anche a me a poi siamo anche in un momento specifico che un dialogo si può intraprendere e la via è quella che dice lei perché se stiamo lì a comprarci tutti i software che escono non ma no è impossibile non non possiamo farlo grazie 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 per le parole di anche di incoraggiamento no no ma che incoraggiamento cioè è è una realtà di fatto ma ma eh ma sì no dice di 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 aver condiviso la sua esperienza su come procedere dato che noi spesso ci siamo trovati di fronte Federica eh lo diceva anche nella sua esperienza eh ha un po' di lentezzi appunto come dicevamo lo so va bene ehm la prossima domanda eh quindi do la parola a Marco Bertozzi eh bene ehm grazie ad Andrea e a voi per questo bellissimo ciclo eh vorrei esserci tutte le volte ma purtroppo siamo eh coinvolti in vari webinar eh su 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 tante materie eh grazie a Simone per questa tua bella presentazione eh volevo ehm esaltare un po' l'anacronismo del del momento in cui hai citato i Lumière perché tu mi sembri sempre più Georges Méliès con quella barbettina e quindi in qualche modo eh questo questo va e vianco nelle origini del cinema mi sembra molto fecondo per illustrare un momento in cui come dicevi tu eh secondo me siamo prima dei Lumière cioè siamo in quel momento in cui fra i fratelli Skladanovski eh Tien Jules Marais, Georges Demeny e Thomas Alva Edison stiamo mettendo insieme le eh le lastre fotografiche con la pellicola appena messa a punto dalla Kodak Eastman con dispositivi che vanno dal bioscope al cronofotograf al cinematografo e chi più ne ha più ne mette quindi il momento che tu illustri è questo e penso che questa analogia possa darci anche delle ulteriori sollecitazioni forse anche per le tue ricerche quando hai citato l'importanza della musica ma l'importanza della musica rispetto al ruolo che ha la musica in quel momento con la figura dell'imbonitore con la realizzazione di partiture ad hoc per alcuni film oppure repertori di eh motivi d'epoca eh sonorizzazioni dal vivo pubblico che interviene sulle immagini che vede mi sembra che sia un momento davvero di 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 grande fecondità ma tutto ciò per sottrarre il più possibile una cosa che io vivo sempre eh male quando assisto a delle eh dimostrazioni di realtà virtuale è che è il privilegio di un narrativo già consolidato in ambito cinematografico letterario con poi il dibattito non su l'apporto della nuova tecnologia ma sul contenuto quindi ancora una volta il privilegio soprattutto nella cultura italiana dell'idea tematica o contenutistica allora ho assistito a una proiezione di un'esperienza in cui si utilizzava la realtà virtuale per illustrare le condizioni eh difficili di dei ragazzi problematici che vivevano in una specie di casa famiglia bene tutta la presentazione era piena di eh eh esperti di pedagogia dei problemi dei ragazzi eccetera eccetera e questa cosa della realtà virtuale non contava più niente si parlava solo di quella cosa lì e quindi ti viene da dire ma perché avete usato questo dispositivo no? Per cui ecco la mia domanda mh sinteticamente è proprio questa cioè ed è in accordo con quello che tu dicevi proprio fa cioè poco fa cioè la necessità di trovare eh delle delle modalità che siano insite alle possibilità del mezzo e mi chiedo se ci sono dei folli come George Melies cioè come tu stesso che in un ambito lontano dalle norme di utilizzo più standard stiano portando questa questo dispositivo verso qualcosa di altro di imprevisto di imprevedibile come ad esempio vi faccio un esempio molto semplice arriva il video negli anni settanta in Italia e studio azzurro lo prende cito studio azzurro perché è di Milano e voi siete lì e ne fa un'altra cosa ecco sta accadendo questo ci sono dei dei nomi delle ditte che tu ci puoi illustrare che stanno portando altrove questo dispositivo questi dispositivi beh grazie Marco eh Simone scusami oh scusami Simone se ti interrompo ma volevo permettermi un follow up su questa cosa qua che ha detto Marco ciao Marco che ti saluto e ti abbraccio anche ne approfitto di esserci eh volevo rilanciarlo proprio perché secondo me Marco ha toccato un aspetto che era già emerso in quello che avevi detto tu nella tua introduzione ma che mi sembra che sia molto importante a sottolineare che è il tema dello specifico del virtuale di che cosa di cosa parliamo quando parliamo di virtuale io ad esempio Marco ne ha parlato sul versante cinema e cioè forme di realtà virtuale che in fondo parassitano forme cinematografiche di narrazione no e non vedi niente di specifico virtuale e eh a me è una cosa che capita quando vedo i documentari in realtà virtuale quando la Bigelov fa Katrin Bigelov dice passo al virtuale perché voglio farvi assistere alla vita dei ranger nel parco nazionale del africano del del Congo perché stanno lì a difendere gli elefanti dei bracconieri ma alla fine quello che vedi è un documentario in tre sessanta allora è il tre sessanta il virtuale abbiamo bisogno dell'interattivo nel tre sessanta di una traslazione nello spazio per poterlo chiamare virtuale eh sono i sei gradi di libertà piuttosto che i tre gradi di libertà eh Chris Milch quando fa i suoi documentari che lui chiama di realtà virtuale quelli che ha fatto per non ho la bambina siriana nel campo profughi in Giordania ma io non ho l'impressione che lì siamo dentro in una realtà virtuale e allora forse anche quella quella esigenza che tu sottolineavi all'inizio Simone cioè no scusami alla fine del tuo intervento quando hai detto ci manca una piattaforma di termini comuni da condividere con chi si occupa di media chi si occupa di filosofia del virtuale o di storia del virtuale chi la fa il virtuale perché forse tra i sessanta e i virtuali da questo punto di vista non così come interattivo e virtuale non sono sinonimi forse nemmeno tra i sessanta e virtuale è sinonimo niente volevo rilanciare eh questo tema che Marco ha sottolineato mi sembra molto importante eh sì ehm Marco grazie perché veramente hai puntualizzato eh una cosa secondo me centrale eh vorrei non so se si vede dietro ma nei libri legati a a quello che sto facendo sui nuovi medi medi a capeggia Mybridge cioè eh proprio per questo è proprio qui ma perché c'è questa c'è questa dimensione ma la dimensione è resa ancora più evidente eh dal ruolo fondamentale che svolge la scienza in questo momento eh la scienza sta svolgendo un ruolo centrale fondamentale nella creazione dei dispositivi ma anche degli immaginari eh molto più che gli altri ambiti e questo lo rende un momento molto simile a quello che tu stavi ricordando Edison ma ci mettiamo anche Tesla e ci mettiamo anche Marei eccetera 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 per cui per me rimane fondamentale uno dei libri di cinema per me che mi occupo poco di cinema poi in senso stretto e eh ma mi occupo di di nuove tecnologie eccetera rimane quello di oh adesso mi dovete dare una mano a quello cinema e scienza eh eh l'autore italiano lo studio di Virgilio Tosi perfetto di Virgilio Tosi grazie per me rimane ancora un libro centrale fondamentale per capire alcune domande tematiche processi e via dicendo quindi il ruolo della scienza il ruolo emergente di altre culture narrative che in qualche modo erano state eh espunte dal cinema il teatro per esempio sta ritornando con forza nei suoi modelli linguistici penso per esempio alle produzioni di Michel Rayac da questo punto di vista la performing art eh no tra l'altro il cinema nasce no quando noi studiavamo il eh eh cinema uno a a all'università il cinema nasce quando finalmente non è più teatro adesso qui c'è qualche cos'altro forse la voir nasce quando non c'è più il cinema ma ritorna un po' in in parte anche il teatro il ruolo che possono svolgere per esempio tutto il mondo dei fumetti chiamiamoli così in generale ho citato prima i manga perché sono degli immaginari che in qualche modo costruiscono modalità di visualizzazione diversa io eh ritornerei su un punto eh in questo momento la voir eh e i contenuti immersivi nella maggior parte dei casi non sono sviluppati in ambito di entertainment quindi forse per andare a vedere quello che sta succedendo quello che si sta sviluppando dobbiamo muoverci andare negli ambiti della scienza eh perché lì stanno stanno provando delle cose diverse che forse diventeranno degli storytelling sul 360 la voir sono d'accordo con Andrea l'unica cosa che li unisce è che il dispositivo con cui si fruisce può essere lo stesso l'elmet ci mette nella condizione di fruire il video 360 nella migliore delle condizioni e ci permette di fruire il VR real time eh poi certo anche il modello di produzione è completamente diverso da una parte vado nel luogo con le telecamerine a 360 gradi e poi in produzione faccio gli stitch cioè li metto li metto tutti assieme quando devo fare un vero VR cioè il real time in CGI devo avere un game developer devo avere uno sviluppatore devo avere l'informatico cioè proprio tutto un altro tipo di 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 sistema produttivo tutto un altro tipo di sistema economico e via dicendo per quanto riguarda rispondendo a entrambi dove dove si possono vedere delle cose interessanti ecco appunto ripeto forse negli ambiti della performing art e del del digit della digital art ho visto anche all'ultima biennale di venezia delle cose molto interessanti certo difficilmente riconducibili all'idea cinematica ehm chris milk io non lo butterei via nel senso nel senso che oltre ai documentari chris milk con la sua casa di produzione che poi anche una piattaforma sta veramente within sta veramente mettendo in campo diverse forme e diverse esperienze di a cavallo tra il 360 e la VR secondo me in molti casi interessanti e poi c'è tutto un mondo che è attraversato da artisti designer e musicisti il mondo della musica elettronica che sta producendo delle cose molto interessanti alvanotto stesso bjork le ultime operazioni di bjork con artisti come gemmler eccetera che usano anche la realtà virtuale cavolo sono sperimentazioni interessanti da questo punto di vista una delle cose più interessanti viste ultimamente non era in war ma era in mr in mixed reality era l'esperienza realizzata dal 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 complesso non so se chiamarlo rock forse un po è un po una diminuzio dei sigur ros contonandi fatto per magic leap allora quello era veramente noi siamo dentro un mondo fatato che è una sorta di immaginario fondo oceanico e i nostri movimenti i nostri respiri i nostri suoni attivano dei movimenti in queste alghe in questi oggetti biologici e nei suoni che i loro movimenti producono allora questa per esempio è un'idea molto interessante i territori da cui possono venire le cose più significative sono i più disparati bisogna capire poi a livello produttivo dove si riescono a incanalare perché fare delle cose di questi livelli è costosissimo e fare delle cose costosissime laddove non c'è un mercato beh o troviamo i mecenati di turno o diventa difficile infatti stanno scendendo in campo i galleristi in questo momento i galleristi che danno i soldi a marina abramovic per fare un'opera in war che non si vede da nessuna parte che ne vendono dieci software dieci app a dieci fortunati o meno questo non lo so perché non l'ho visti neanch'io che si vanno a comprare l'app in esclusiva ma non so se augurarmi che questo sia il luogo di sviluppo e di distribuzione forse anche lì servirebbe per esempio un'istituzione museale che intendesse inserirsi in questo il moma ci ha provato ci sta provando non ne conosco altri che stanno facendo acquisizioni di numericamente significative però anche lì potrebbe essere un ambito interessante spero di aver risposto posso ok ora mi sentite ok perfetto c'è stato un bene grazie e adesso passiamo alla domanda di Giancarlo grazie per questo intervento io volevo fare un flow up ciao a questa questione perché la trovo molto interessante nel senso che è vero cioè per la realtà virtuale ci troviamo in una situazione analoga a quando il cinema non si sapeva se era uno strumento scientifico per oggettivare le convulsioni delle isteriche o una possibile o una possibile forma d'arte no però allo stesso tempo mi dico che ci vorrebbe effettivamente perché si possa fare quello che tu dicevi all'inizio cioè una forma di critica della realtà virtuale che crei un linguaggio comune quindi non solo di teoria ma di critica e c'è bisogno effettivamente di capire qual è una specificità estetica della della mi chiedo anche se una critica non trovo non possa trovare anche laddove il un'esperienza di realtà virtuale sfrutta sfrutta questa specificità e quindi si allontana dalle possibilità del cinema e di altre arti qualcosa effettivamente di esteticamente più interessante e di più e di più proprio un po' come il montaggio la nascita del montaggio per il cinema diciamo qualcosa che definisca eh l'identità del medium e e in questo senso ti volevo chiedere eh quali sono secondo te le opere in realtà virtuale da da fare per capire cosa è la guarda oggi fondamentalmente allora io grazie io ho un dubbio che mi ronza nella testa da 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 tanto e che non non so non so come esplicitare nella migliore dei 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 modi ma ho il dubbio che il parallelismo che tra l'altro io ho fatto per primo citando la fase Lumière tra la storia del cinema e la storia della VR eh rischia di non essere uno dei migliori nel senso che la storia del cinema la conosciamo appunto nasce in ambito scientifico e poi si costruisce un proprio percorso chiamiamolo evolutivo incontra un mercato un'istituzione un dispositivo la sala cinematografica il cinema nasce senza la sala cinematografica eh allora il mio problema è un altro la VR avrà il tempo di sviluppare un proprio percorso tale per cui incontrerà un Mellies incontrerà un John Ford un Griffith un pastrone io ho la la paura ma che non è una paura ho il dubbio occupandomi di da tanto di nuovi medie nuove tecnologie che non sarà così che nel momento in cui andremo a definire degli standard dei caratteri in quel momento lì la VR sarà un pezzetto di un'altra dimensione eh uber immersiva che in questo momento stiamo chiamando XR perché non abbiamo un altro termine eh che farà parte di un sistema ampio di ambienti sensoriali intelligenti con cui and cioè ho il il timore che il il parallelismo la la ricerca di un linguaggio comune o di un'identità sia una rincorsa eh che poi ci troverà ad essere superati ancora una volta cioè io penso che la 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 fase Lumière sia tu cur la fase VR non non so se mi sono spiegato ehm ed è una cosa che eh provo lavorando da tanti anni sulle tecnologie emergenti cioè nel momento in cui l'IoT sembrava essere lo standard l'Internet of Things sembrava essere lo standard definitivo per per realizzare la 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 smart city la domotica eccetera adesso lo spatial computing sta in qualche modo prendendo l'IoT e dicendoci sì era un pezzettino piccolo avemo scherzato cioè non so come dire adesso non 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 vorrei buttarla in però è un po' così quando si parla di accelerazione del digitale si parla proprio di questo cioè che anche che non solo le tecnologie hanno una vita accelerata e quindi hanno un 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 campo di 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 sviluppo molto breve ma i processi stessi che attengono agli sviluppi delle tecnologie tendono a essere veloci impattanti ma molto brevi per essere poi ridefiniti riorganizzati riassemblati rimodulati ridigeriti in altro eh non sto parlando di processi di rimediazione sto parlando proprio di una una dialettica eh delle tecnologie digitali che tendono sempre più a a non essere un toolbox di strumenti mediali per la comunicazione ma di essere veri e propri organismi viventi diversamente viventi che hanno a che fare con noi e che quindi intavolano e intersecano con noi forme di dialettica e di ehm eh simbiosi molto diverse noi ne prendiamo dei pezzetti e pensiamo che quel pezzetto lì possa in qualche modo con essere ricondotto a una storia perché assomiglia a un media che abbiamo abbiamo visto ma ho ho il terrore ho il timore che invece stiamo veramente riducendo la complessità a una somma di pezzetti eh va bene vi ho espresso quello che anche perché la notte non mi fa dormire anche perché poi non saprei più da da chi farmi sovvenzionare le bene eh chiedo se non ci sono altre domande eh Giancarlo era il nostro la nostra ultima domanda almeno qui in chat quindi anche perché no scusatemi non vi posso far vedere ma ci sono le parolacce di mia moglie ma siamo quasi perfettamente nei tempi abbiamo scherzo bene allora io ringrazio nuovamente il professore Arcagni per aver condiviso con noi la sua ricerca il suo progetto e le sue esperienze e che per noi sicuramente per il nostro gruppo di ricerca e per tutti i nostri ospiti saranno senz'altro preziose e lascerei la parola ad Andrea per gli ultimi saluti. Grazie grazie Fabrizio per la moderazione e grazie anche a Roberto per avere gestito come sempre la nostra connessione e averci difeso da da zoom bombing abbiamo avuto qualche diciamo così pittoresca quando abbiamo cominciato questo questo ciclo di incontri e grazie soprattutto a tutti gli intervenuti ma grazie soprattutto al nostro redattore Simone sei sempre preziosissimo per noi ci dai un mucchio di stimoli e speriamo di poter continuare molto presto questi incontri anche in carne ed ossa anche se questi strumenti ci consentono perlomeno di farlo così in remoto ma speriamo di averti presto nostro ospite anche a Milano e di venirti a trovare a Torino quando quando potremo per vedere cosa stai combinando eh sì questa cosa della sala dobbiamo dobbiamo assolutamente organizzarci sì assolutamente sì grazie ancora di cuore a tutti e buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti